Strano a dirsi ma una delle imprese più sane d'Italia si chiamava fino all'anno scorso IMS, ora chiamata Super IMS, visto che accorpa altre casse di previdenza, soprattutto quella dei dipendenti pubblici, l'ImpDAP. Oggi il primo bilancio dell'operazione è fatremare i polsi. Come indicato dal presidente Antonio Mastropasqua nella relazione annuale, l'ente fino alla riforma dell'anno scorso poteva vantare in quattro anni saldi positivi per 25 miliardi di euro. Questo perché lavoratori e imprese pagano tanto, soprattutto pagano più di quello che serve a pensionati e cassa integrati. Poi è arrivato il pubblico, ossia la cassa previdenziale degli statali, l'ImpDAP, che di soldi ne vedeva pochi perché lo Stato trattandosi di dipendenti suoi, quei contributi non li versava veramente, ma figurativamente, ossia sulla carta. Quando lo scorso anno l'allora ministro del lavoro Fornero ha integrato i due enti mettendo l'ente malato, ossia l'ImpDAP, dentro quello sano, ossia l'Inps, già scatenò la preoccupazione di chi, Wille in testa, temeva un'operazione a danno dei lavoratori privati. Ma il ministro Fornero rassicurò il disavanzo continuerà a essere coperto. Oggi il risultato è che Super-Inps è in rosso di 9 miliardi di euro a causa del fardello della previdenza degli statali. Ma il peggio deve ancora venire. Questo cartello indica quanto accumulato fino all'anno scorso dall'Inps nel patrimonio. Sono oltre 41 miliardi di euro. Questa, invece, è la situazione oggi. 22 miliardi di euro. Vuol dire che l'ente ha dimezzato le sue risorse. Ma il presidente dell'Inps e l'attuale ministro del lavoro non sembrano allarmarsi. All'avere unito il bilancio dell'Inps e dell'ImpDAP ha determinato uno squilibrio che però è puramente finanziario, è puramente legato al fatto che il contributo dello Stato non viene contabilizzato tra i contributi privati, naturalmente. Quindi dal punto di vista dei conti la riforma effettuata l'anno scorso ha messo in sicurezza nel lungo termine e questo ha contribuito straordinariamente alla stabilità dei conti dell'Italia. Ora, si sa che tutti i buchi di bilancio sono finanziari, ma la Fornero un anno fa, i giovanini oggi, si dicono soddisfatti perché quel che oggi pesa sull'Inps non pesa sul debito pubblico. Ma che ne pensano i futuri pensionati Inps? E quelli di oggi, la cui metà prende meno di 1000 euro al mese? Questa lettera di cui siamo entrati in possesso è stata spedita da Mastro Pasqua lo scorso 22 marzo e indirizzata agli allora ministri dell'economia Grilli e del lavoro Fornero. È una richiesta di aiuto. L'ente sta finendo i soldi. Si riportano i dati della Corte dei Conti, con cui si prevede una liquidità per pagare le pensioni appena di tre anni, ossia fino al 2015. È questo a causa dell'accorpamento dell'Inpdap. Con il blocco del turnover il pubblico non ha nuovi dipendenti che pagano i contributi e soprattutto i contributi che figurano versati dallo Stato fino al 1996 sono virtuali, ossia non sono mai stati versati.